ciao puntelusiani bentornati nel nostro salotto nella sala prove studio di registrazione tnt sound garage di ponte curone siamo qui insieme a fabrizio falchetto artista di ponte curone e dintorni molto conosciuto per un personaggio particolare un omino di carta senza volto innanzitutto salutiamo fabrizio falchetto ciao fabrizio ciao e saluto tutti fabrizio perché l'omino di carta senza volto e questo mino di carta qua non al volto perché ho deciso di farlo così per lasciare libera espressione a tutti nel senso che i vari osservatori che vedono le mie opere guardando l'omino non sono condizionati da un'espressione precisa ma si possono rispecchiare e quindi così facendo secondo tu il sentimento e l'umore che hai dovresti rispecchiarlo nell'opera e la stessa opera vista con uno spirito allegro può cambiare se lo vedi con uno spirito malinconico e quindi il più o meno deciso di non fargli un volto anche se non ritengo che sia apatico ma ma la sua personalità così che cos'è che ha ispirato la tua opera è la mia opera sono ispirate dal mondo in cui vivo da quello che vedo da quello che sento da quello che leggo da quello che leggo sui libri da quello che leggo sui muri da quello che leggo sui giornali e poi lo rielaboro e poi partorisco la mia opera dove cerco di trasmettere il mio messaggio a volte con i colori a volte mettendoci delle parole che poi vengono interpretate dal visitatore dall'osservatore molto bello anche un'associazione di cui mi avevi parlato in precedenza con l'omino di carta senza volto e l'essere umano sì il mio personaggio è fatto apposta di carta perché ci vedo molte somiglianze della carta con noi altri nel senso che la carta è un elemento fragile come la vita però se tu ne hai cura si conserva più di una vita però se non stai attento ti può tagliare e se tu puoi tagliarlo puoi rovinarlo ci vuole niente come buttare via una vita e poi contiene le parole perché è un foglio di carta scritto con la mia grafia sono pagine di diario di fotocopi di pagine di diario e quindi anche noi abbiamo parole io poi ce ne ho tante dentro che le tiriamo fuori e quindi per questo un nomino di carta per via della fragilità umana pieno di parole perché comunichiamo noi con le parole quindi quindi queste opere oltre al nomino di carta dov'è che le possiamo trovare avete delle mostre in programma in futuro sì abbiamo stiamo stiamo concludendo adesso novembre un mese di esposizione presso la la stanza landini che è questo appassionato d'arte di voghera matteo landini che ha questa vetrina che concede i suoi amici artisti e io fino alla fine di novembre ho lì una decina di opere poi dovrei fare una mostra collettiva alla durante le vacanze di natale nelle festività natalizie a castelnuovo scrivi al memorial ghibaudi che appunto questo amico artista che per onorare la memoria di suo papà che è un amante dell'arte organizza tutti gli anni questo memorial e poi prossimamente abbiamo intenzione siamo in parola con delle delle amministrazioni comunali qua nell'oltre poi di fare delle mostre e quindi insomma dobbiamo ancora definire il periodo di ma probabilmente sarà questa primavera e quest'estate speriamo che si concretizzano quando si saprà te lo farò sapere che così se darei risonanza alla cosa sarà una cosa gradita oltre che vederle magari dei murales che abbiamo fatto in giro e quelli lì sono sempre sono sempre visitabili visitabili esposti infatti noi invitiamo i nostri lettori e le persone che hanno visto questa intervista a vedere le mostre di fabrizio falchetto molto belle e inoltre ti ringraziamo per essere stato qui con noi nel nostro salotto e ti invitiamo ancora per le prossime volte io invito voi per per cioè ringrazio voi per l'invito che mi avete fatto e ben volentieri se riterrete di divulgare la mia arte di far vedere qualcosa sarò ben felice di di venire a a fare questo questi servizi qua assolutamente ti ringraziamo ringraziamo voi ponte newsiani per averci seguito e vi ricordiamo che per chi desiderasse partecipare al nostro salotto può contattarci al numero in sovraimpressione inoltre per chi desiderasse acquistare il nostro giornale settimanale di ponte news lo può acquistare nel nostro ufficio in via genova 8 oppure acquistarlo gratuitamente nel nostro sito www.ponte news.it alla sezione shop grazie un saluto da cancia e fabrizio buonasera a tutti ciao a tutti i ponte newsiani ciao alla prossima